La procedura per la richiesta dello stato di calamità in seguito ai danni provocati dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi è stata al centro di un incontro con i sindaci della provincia, svolto sia Palazzo Santo Stefano. Noi abbiamo avuto nel territorio della nostra provincia, nelle scorse settimane, alcuni eventi meteorologici di notevole entità che hanno provocato parecchi danni anche alle abitazioni, alle culture e a opere pubbliche. Abbiamo ritenuto di convocare questo incontro con i tecnici regionali apposta per dare ai sindaci, dare alle amministrazioni delle giuste informazioni su come muoversi per ottenere questo stato di allerta là dove è possibile. Quindi oggi è un incontro operativo soprattutto di chiarimento e di precisazione su quelle che saranno le procedure. Il vero problema è quello di rendere e mettere in evidenza come l'assetto idrogeologico del territorio sia precario ed è evidente che se qualche decennio fa eventi analoghi potevano causare qualche allagamento e nulla di più oggi la faccenda si fa complessa perché i danni cominciano ad esserci su beni immobili e c'è il rischio che anche le persone in certi momenti possano essere messe in condizioni di avere dei pericoli immediati.